Che Mauro Ferretti abbia cambiato strategia di comunicazione è evidente. L'ufficio stampa della società lo ha convinto a esternare di meno di evitare quelle polemiche che negli anni scorsi avevano alimentato tensione nell'ambiente. Adesso la linea è quella di tenere i toni bassi e mostrare un atteggiamento più morbido e conciliante. Anche la partecipazione delle presidenti a Block Notice per la prima puntata della nuova stagione segnò un'inversione di rotta impossibile da sottovalutare. Gli strascichi del muro contro muro dei mesi scorsi sono però arrivati fino ad oggi. La battaglia in tribunale con la Football Academy di Zerbini è tuttora in piedi dopo il ricorso presentato dall'Arezzo contro la condanna al pagamento di 73 mila euro imposta dai giudici. Senza contare che restano aperti i fronti legali con l'ex direttore generale Pagni e i proprietari dei campini dell'antistadio. E il caso Sperotto si è chiuso venerdì con un accordo in via Bonaria che ha prodotto sì la risoluzione del contratto ma anche l'avversamento di una buona uscita al calciatore. Mentre gli stipendi dei tesserati continuano a essere pagati da Ferretti con puntualità svizzera torna ciclicamente a galla e le budget da investire sul mercato. L'Arezzo a gennaio ha bisogno di rinforzi ma nonostante l'aziendalismo di Capuano manca la certezza che ci saranno denari da spendere e la classifica con un esile più due sui play out è quella che è. Soprattutto sono tornate a rincorrersi voci insistenti su presunte trattative per la cessione delle quote di maggioranza. Ferretti la settimana scorsa ha fatto visita alla squadra e l'ha spronata a dare di più ma i giornalisti e ai tifosi non ha parlato. A Siena non c'era e il rappresentante più alto in grado della società come spesso accade era il vice De Martino con tutte le ambiguità del caso. La domanda a quasi tre anni dall'arrivo ad Arezzo è se Ferretti abbia ancora l'entusiasmo di una volta per maneggiare la patata bollente del calcio. Alle prossime settimane la risposta tanto attesa.